Marzia Gemma Paita, 48 anni, impiegata amministrativa in un'azienda locale, vive a Carrara con il figlio di 17 anni. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché, pur disgustata dal comportamento arrogante e spregiudicato che in questi anni ha contraddistinto la politica locale, crede ancora nelle persone oneste e nel loro impegno. Sogna con De Pasquale Sindaco di dare il proprio contributo nel restituire speranza a una città da troppo tempo saccheggiata.